no amico mio non pensateci più quello che mi chiedete mi indigna e mi disgusta si direbbe che dio poiché io credo in lui abbia voluto aggiungere a tutto quel che ha fatto di buono qualche cosa di orribile ci aveva dato l'amore il sentimento più dolce che ci sia al mondo ma trovandolo troppo bello e troppo puro per noi ha immaginato i sensi gli ignobili sensi sudici ripugnanti grossolani quei sensi che ha foggiato come per deriderci li ha mescolati alle sozzure del corpo concependoli in modo tale che non possiamo pensarci senza arrossire ne possiamo parlarne se non una bassa voce sono atti orrendi coperti dalla vergogna vengono compiuti di nascosto perché rivoltano l'anima feriscono gli occhi e riprovati dal senso morale perseguitati dalle leggi umane vengono compiuti nel buio come dei delitti non parlatemi mai di queste cose mai non so se vamo ma so che mi piace starvi vicina so che il vostro sguardo mi ha gradito so che la vostra voce mi accarezza il cuore dal giorno in cui potreste ottenere dalla mia debolezza ciò che desiderate mi diventerete odioso si spezzerebbe il delicato vincolo che ora ci unisce e tra noi ci sarebbe soltanto un abisso di infamie rimaniamo ciò che siamo e amatemi se volete ve lo permetto la vostra amica chenevieve signora volete permettermi una volta di parlarvi sinceramente senza quegli eufemismi propri della galanteria come parlerei a un amico che avesse l'intenzione di prendere i voti perpetui nemmeno io so se vi amo non lo saprò davvero se non dopo quegli atti che vi disgustano tanto avete dimenticato i versi di de musée ricordo ancora gli spasmi terribili i baci muti muscoli ardenti essere assorto livido coi denti stretti quando non sono divini sono momenti orribili quella sensazione di orrore ed insormontabile disgusto noi pure la proviamo quando trascinati dal sangue caldo ci abbandoniamo ad accoppiamenti occasionali ma quando una donna è per noi l'essere letto dal fascino costante dalla seduzione infinita come voi siete per me la carezza diventa il guardente completo inesauribile pagamento le carezze signora sono la prova dell'amore se il nostro amore si spegne dopo l'abbrazzo significa che c'eravamo ingannati si aumenta vuol dire chiamiamo un filosofo che non osservava queste dottrine ci ha messo in guardia contro le trappole dell'amore e gli dice che la natura vuole nuovi esseri e per obbligarsi a crearli ha messo vicino alla trappola la duplicesca dell'amore e del piacere e continua dopo che ci siamo lasciati prendere dopo che è trascorsa quella follia di un momento ci coglie un'immensa tristezza perché ci rendiamo conto di quale astuzia ci ha tratto un inganno vediamo sentiamo tocchiamo con mano la ragione segreta e nascosta che ci ha spinti nostro malgrado tutto ciò è vero molto spesso allora ci allontaniamo pieni di disgusto la natura ci ha vinti ci ha buttati al suo piacere tra due braccia che si aprivano perché se esiste che le braccia si aprano sì conosco i baci freddi e violenti su labbra sconosciute gli sguardi ardenti e fissi in occhi che non si erano mai visti e non si vedranno mai più conosco tutto ciò che non posso dire tutto ciò che ci lascia nell'anima una mara malinconia ma quando questa specie di lume affettiva che chiamiamo amore ha avviluppato due creature quando esse hanno pensato l'uno all'altra lungamente sempre quando il ricordo durante la lontananza è sempre presente giorno e notte recando all'anima ai tratti del volto amato il sorriso il suono della sua voce quando si è stati ossessionati posseduti da quella forma assente pur eternamente visibile non è forse naturale che le braccia si aprano che le labbra si congiungano e i corpi si uniscano avete mai desiderato baciare ditemi se le labbra non chiamano le labbra e se l'impido sguardo che sembra scorrere fin giù nelle vene non suscita ardori furiosi irresistibili certo questa è l'insidia l'insidia immonda voi dite che cosa importa io lo so ci cado e mi piace la natura ci dà le carezze per nascondere la sua trappola per costringerci nostro malgrado a perpetuare le generazioni ebbene rubiamole le carezze facciamole nostre raffiniamole mutiamole se volete idealizziamole inganniamo a nostra volta la natura questa ingannatrice facciamo di più di ciò che lei vorrebbe fare facciamo quel che essa non ha potuto o non ha osato insegnarci che le carezze siano come una materia preziosa dataci grezza dalla natura lavoriamola perfezioniamola senza preoccuparci degli scopi nascosti della volontà dissimulata di quella cosa che chiamate dio e poiché il pensiero porta in ogni cosa la poesia mettiamo la poesia nelle carezze signora perfino nei suoi momenti più brutali nelle più impure combinazioni e le invenzioni erotiche più mostruose prediligiamo le carezze sapide come vino inebriante come il frutto maturo che profuma la bocca come tutto quel che rende felice il nostro corpo amiamo la carne perché è bella perché è bianca e soda tomba e dolce deliziosa al contatto delle labbra e delle mani quando gli artisti hanno cercato la forma più pura più rara per quelle coppe da cui si doveva attingere brezza hanno scelto la curva dei seni il fiore dei quali rassomiglia a una rosa in un libro da specialisti che ha per titolo dizionario delle scienze mediche ho trovato questa definizione del seno femminile degna del signor joseph prudhomme improvvisatosi dottore in medicina il seno femminile può essere considerato un oggetto di utilità e di piacere nello stesso tempo togliamo se volete l'utilità e conserviamo il piacere avrebbe forse quella forma squisita che reclama irresistibilmente la carezza se fosse riservato solo ai nutrimenti dei lattanti lasciamo signora che i moralisti predichino la necessità del pudore e i medici la prudenza lasciamo che i poeti ingannatori eternamente ingannati esaltino la casta unione delle anime e la felicità spirituale lasciamo che le donne brutte facciano tutto il loro dovere e gli uomini dotati di ragione le loro opere inutili lasciamo gli intellettuali al loro intelletto i preti ai loro comandamenti e quanto a noi amiamo su tutto le carezze le carezze che danno lebbrezza che sconvolgono che snervano che sfiniscono e rianimano le carezze più suavi dei profumi più lievi della brezza marina più brucianti delle ferite carezze rapide e divoratrici che fanno pregare piangere gemere urlare commettere delitti e atti di coraggio amiamo le carezze quando sono placide normali legali ma le carezze violente furiose eccessive valutiamole come l'oro il diamante perché valgono anche di più essendo senza prezzo e di breve durata cerchiamole ininterrottamente moriamo per una carezza e con una carezza volete che vi dica una verità che non si trova in nessun libro signora le uniche donne felici su questa terra sono quelle a cui non mancano mai le carezze esse vivono senza preoccupazioni senza pensieri tormentosi con il solo desiderio di un nuovo bacio delizioso e rassicurante come quello che l'ha preceduto e altre donne quelle che conoscono carezze rare o incomplete o tiepide vivono in un continuo tormento con mille inquietudini al desiderio di denaro alla vanità a tutto ciò che può diventare motivo di afflizione le donne sazie di carezze non hanno bisogno di niente non desiderano niente non rimpiangono niente queste donne sognano placide sorridenti appena sfiorate da ciò che per le altre sarebbe stata una catastrofe irreparabile perché le carezze sostituiscono tutto consolano di tutto e avrai ancora tante altre cose da dire henry queste due lettere scritte su carta giapponese di riso sono state trovate ieri domenica in un piccolo portafoglio di cuoio di russia sotto un inginocchiatoio della chiesa della madeleine subito dopo la messa del luna da montfrigneuse grazie 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 grazie